Siamo con Stefano De Carolis che stasera presenta il suo libro all'interno del circuito B-Book. Questa sera sarà degli specchi del Comune. Allora, dottor De Carolis, ci spiega perché è andato a scavare così in fondo? Innanzitutto io amo i documenti antichi, quindi sono un cultore della storia e quindi la storia, più delle volte, anzi spero sempre di cercarla nei documenti, quindi attestare tramite il documento il tema che voglio affrontare. In questo caso l'ho affrontato un po' casualmente dopo aver acquistato una fotografia a Milano, una fotografia molto interessante dove vengono rappresentati alcuni ragazzi, alcuni ragazzi camorristi baresi. Quindi grazie a questa fotografia ho iniziato il mio lavoro ben dieci anni fa, quindi il lavoro è durato circa sette anni e poi un anno per elaborare il libro, insomma vero e proprio. Che cosa l'ha catturata di tutta la ricerca che ha fatto per il libro? Mi ha catturato, a parte gli eventi criminali, sanguinari, spietati, arroganti, e la cosa che più mi ha sconvolto è praticamente l'attualità. L'attualità, in buona sostanza, nulla è cambiato nella nostra regione, nella nostra provincia, quindi lo stesso fare arrogante, lo stesso fare sanguinario, spietato, quindi i delinquenti baresi e non solo baresi ma anche della provincia, con le varie associazioni criminali non sono mai cambiate. Ecco, l'ha detto lei, io non volevo dirlo, l'ha detto lei, come mai secondo lei non c'è un cambio tra il 1900 e il 2018? Cioè più di tanto non sono cambiate le situazioni in cui ci sono affiliazioni e roba varie? Ma fondamentalmente c'è un aspetto culturale ormai radicato, c'è anche un fattore del DNA, praticamente, che ormai è dentro ognuno del delinquente, nasce delinquente e quindi poi cresce, insomma, dal punto di vista criminale, però di fatto è un delinquente che nasce. Questo è il suo primo libro? Sì, è il mio primo lavoro editoriale, io scrivo articoli inerenti alla storia da una ventina d'anni, quindi scrivo sui giornali italiani e anche esteri, scrivo su un giornale americano che si chiama l'Italo-americano e quindi propongo articoli di storia riguardanti la nostra Puglia, soprattutto Bari e provincia. Va bene, noi la ringraziamo, la lasciamo andare perché è stata così gentile, perché so che deve presentare il libro, comunque la seguiamo, poi magari se ci scappa qualche altra domanda che la facciamo volentieri. Grazie a voi, grazie di tutto e grazie anche per il vostro contributo all'evento. Assolutamente, grazie. Grazie.